Hanno mal digerito per restare in tema la revisione delle tariffe delle menze nelle scuole dell'infanzia e materna di Chieti. Così un gruppo di genitori della Bosio, a nome anche di altri di diversi istituti, si sono rivolti al primo cittadino Diego Ferrara. I motivi della protesta da Isabella Micati, genitore nonché rappresentante osservatorio menze. Sì, quest'anno ci siamo ritrovati delle nuove tariffe per quanto riguarda il servizio menza scolastico, quindi primaria, infanzia. Queste tariffe hanno abolito, questa è la grande novità, hanno abolito le fasce ISEE per le famiglie. Questo solamente per chi viene da fuori comune, quindi da tutti i paesi limitrofi, da fuori provincia. Io vengo dalla scuola di Via Bosio ma è un problema comune, comunque nella scuola di Via Bosio la presenza da fuori è molto molto alta. Le tariffe sono arrivate al massimo per noi, quindi sono più di 5 euro a passo, ma al di là della cifra il concetto che ci preme sottolineare è quello che hanno levato le fasce ISEE, quindi non viene rispettato per i genitori, per le famiglie, quel principio sia di poter portare il proprio figlio nella scuola prescelta, quindi scelta a fondo, perché è un nostro diritto farlo e soprattutto proprio si va a ledere un diritto dei bambini, quello di partecipare alla scuola, alla scuola a tempo pieno. Quindi questa azione, questa scelta non ci è sembrata adatta, non ci è piaciuta per niente. Adesso vedremo se il comune ha intenzione di risponderci oppure no. Insomma, prosegue Isabella Micati, chi viene da fuori città anche dai centri limitrofi è penalizzato in un periodo difficile, prosegue per l'economia delle famiglie. Attualmente per i cittadini di Chieti sono otto fasce, quindi sono parecchie e per noi nulla. Quindi dico per noi perché anche io vengo da fuori comune, perché abbiamo scelto la scuola di Via Bosio, perché è una didattica molto particolare ed eccellenza, sempre una scuola pubblica e voglio continuare a portare i miei figli lì. Nella lettera diciamo anche che proprio in questo momento ci sembra un'azione molto molto odiosa, perché dopo il Covid, dopo tante famiglie si sono anche fermate con il lavoro, non ci è sembrato davvero un'azione possibile. Capiamo tutto, capiamo le difficoltà economiche del comune, ma non possiamo sempre rifarci sulle famiglie, sui bambini.